Consegnata al sociologo Taurio Novese, Antonio Marziale, l'onorificenza di Cavaliere. Nella sfarzosa cornice della villa di rappresentanza della prefettura di Monza, Marziale, fondatore e presidente dell'osservatorio sui diritti dei minori, nonché direttore editoriale del sito di informazione a Prodo News, è stata consegnata l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, decretata dall'allora capo dello Stato Giorgio Napolitano il 2 giugno 2014 e controfirmata attualmente dal premier Matteo Renzi. A consegnare il riconoscimento è stato il prefetto di Monza, Giovanna Vilasi, anche lei regina d'Oc, insieme al vicepresidente della provincia di Monza e Brianza e sindaco di Bellusco, città di attuale residenza di Marziale, Roberto Invernizzi, davanti alle massime rappresentanze politiche, civili e militari. La speaker della prefettura, nel leggere le motivazioni che hanno determinato l'onorificenza di Stato ad Antonio Marziale, ha evidenziato la costante e coraggiosa tenacia a battersi contro ogni forma di soppruso nei confronti dei bambini e la valida collaborazione con le istituzioni costituite nella stesura di leggi volte a tutelare l'infanzia. Il presidente dell'osservatorio, in una dichiarazione rilasciata a margine della cerimonia, si è detto commosso, ma altresì convinto che la battaglia per la piena affermazione dei diritti dei minori richieda molta strada da percorrere tutti insieme.